a il coragione e con esso il modo di contenere il potere del pozzo abbiamo un piano per mandarti lì mega ti spiegherà il processo ok andiamo questa è la mia struttura operativa principale è dove sono stato creato nonché dove risiede il mio nucleo principale ci vogliono circa 2,4 terawatt per alimentare le mie capacità di calcolo porca troia è stato deciso di utilizzare tale energia per mandarti alla fonte del portale sei offeso per caso io non sopravvivrò alla procedura e non sono in grado di autoterminarmi quindi ti spiegherò il processo tutte le porte interne ed esterne della struttura sono state bloccate dovrai cercare una via d'ingresso e disattivare i sistemi di sicurezza ok chiavetta va bene posto i miei sistemi di sicurezza operano su due reti neurali separate che terminano in questo edificio di manutenzione ogni punto terminale è protetto da un campo elettrificato ma dovresti sopravvivere alla scarica allora lì c'è il berserker quindi capiterà qualcosa di molto brutto rete di sicurezza rete di sicurezza neurale primaria offline i miei sistemi vitali sono ora vulnerabili ti consiglio di distruggere per primo il sistema di raffreddamento così si accelera il processo di destabilizzazione a differenza del resto della tua vita il tuo lavoro qui è importante ah ok ok oh chiave blu non sapevo neanche che mi servisse chiavetta prego un pinky no eh ah un revenant segreto ti trovi di fronte all'unico sistema di raffreddamento a zero assoluto mai costruito ci sono voluti anni distruggi i quattro generatori di refrigerante una volta disattivati i miei sistemi primari inizieranno a surriscaldarsi temperatura del nucleo in aumento attenzione grazie ora puoi procedere fino al mio nucleo per completare questo processo la tramvia sottostante ti porterà all'ingresso prima di accedere al mio nucleo dovrai eliminare ogni minaccia demoniaca nella prossima stanza ah cazzo si è fatta la tua volontà venga sto perdendo capienza di memoria controllo delle funzioni neurali minimo addio vega è stato un piacere una volta distrutto il nucleo di vega il vuoto d'energia ti richiamerà negli inferi abbiamo impostato la tua destinazione il pozzo usa il crogiolo per spegnerlo e il portale su marte sarà chiuso definitivamente non ti lasceranno entrare nel pozzo senza combattere ma è immagino se quello che desiderino è quello che fai ok andiamo a finire vega il processo è completato grazie vega ho molti rimpianti dottor Hayden almeno l'ho becappato dai grazie a tutti